Adesso spostiamoci a Cerignola nel Poggiano perché oggi è l'ultimo giorno di lavoro della responsabile del commissariato di polizia, la dottoressa Loreta Collasuono ha una carriera e soprattutto una responsabilità nel centro quantino del commissariato locale durata 11 anni, è stata lei stessa ad annunciarlo ufficialmente sui canali social mettendo anche in evidenza queste parole. Grazie a tutti per le bellissime parole rivolte alla mia persona e soprattutto alla città di Cerignola in cui ho trascorso quasi 11 anni alla guida del commissariato di pubblica sicurezza cercando di svolgere il mio servizio nel miglior modo a me possibile. Se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, una cosa è certa, ho sempre messo il cuore in qualsiasi cosa fatta e va anche rilevato che sono tantissimi i messaggi che sono arrivati di stima e di amicizia nei confronti della dottoressa Collasuono a cui si sono aggiunti anche quelli della nostra redazione. Grazie a tutti.